ci venerdì 25 di 5 giugno 2021 mamma che bomboniere doppietta morone mamma che spettacolo ragazzi che bomboniere bellissima mamma che spettacolo ragazzi che spettacolo ragazzi che spettacolo ragazzi che spettacolo ragazzi che bomboniere vorrei dedicare questi fungo a tutte quelle persone che hanno stanno giocando male ma non fa niente facciamo che lombardi i funghi li trova sempre sempre i funghi freschi di giornata non fa niente venerdì 25 25 di giugno 2021 mamma mia mamma che bomboniere che bomboniere che bomboniere bellissima bellissima schiatta la miglia venerdì 25 25 giugno 2021 che bamboni che bombone nelle bombe nasce Ma che spettacolo, che bombonino di nero, che neroni, mamma mia, che neroni, mamma mia, che funghi, che funghi, spettacolo, 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 guarda qua, bellissimo, bellissimo, sempre giugno 2021, 25, è scaricato pure la lana, amici, ma non ce n'è per nessuno stamattina, mamma mia, ma dove sto, dove sto, tanta gente in montagna ma funghi niente, mamma mia, di 25 giugno 2021, vedi tu quanta bada chissi? Mi fai lasciare con la pietta, ti ho rimasto un regalo, mi hai fatto scaricare in macchina e mi hai fatto tornare vuoto, vai 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 vai, raccogli, vedi, fai una cosa presto, andò, che ci abbiamo da fare, vai vai, aspettate, vedi qua, vai va, ho visto nei porti di alcuni funghi stamattina un po' di sconforto, come non hanno trovato niente, non fai niente, vieni qua, vedi qua, ho visto, l'ho visto, vieni qua, raccogli pure questo, già non lo vedevo più, raccogli pure questo, non si mette la mano davanti, niente, non so, lo so, lo so, lo so, fai vedere un po' la qualità, vai dietro, che coppietta, che spettacolo, brune, fresche, bellissime, che funghi, che funghi, che funghi, schiatta la media, schiatta la media, funghi giovani, sempre 25 giugno 2021, per le persone che vanno alla ricerca dei funghi, che non trovo nunca, spettacolo, bellissime, perfetto lino, vicino, si nada, sempre di ricaretta, vedi, mamma mia, che bomba, mamma mia, mamma mia, qui sopra c'è sua maestà, sua maestà, sua maestà, madonna, che bombolone amici, che bombolone, che bombolone, 25 giugno 2021, tantacenta ma pochi funghi, pochi, pochi funghi, 25 giugno 2021, venerdì, questo è il risultato di oggi, poca roba, pochissima, 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 che bombolone per lì, roba, il risultato di oggi, ri abbiamo. pochissima, possiamo and everywhere, quindi da? Grazie a tutti.